ITV ha approfondito la vita della principessa Diana e ha cercato di dare un senso a come è andata a finire e cosa ha influenzato la sua vita buone notizie per tutti i fan della principessa Diana Bingo che hanno perso l'occasione di giocare su ITV. Se prendi i tuoi dubbers e le tue carte, posso aggiornarti su cosa ti sei perso. Pronto? Ci siamo. Torp Park. John Travolta. Qualunque cosa significhi innamorarsi, abito da sposa, sole che splende attraverso la sua gonna, quel vestito nero, il filmato di lei che dice a un giornalista di stare attento a un lampione mentre camminava per andare al lavoro all'asilo. E quelli erano solo i primi minuti della prima parte di Diana's Decades. Dovresti aspettarti di gridare linea. Entro giovedì prossimo e, house. La settimana dopo, sì, se pensavi che ITV avesse finalmente tirato fuori Diana dal suo sistema con quel bizzarro segmento di moda di This Morning che immaginava cosa avrebbe indossato se fosse ancora viva oggi, ripensaci. In realtà, per essere onesti, se Diana fosse ancora viva oggi, probabilmente sarebbe una delle poche persone che potrebbero permettersi gli abiti che hanno nella moda di This Morning. Questa serie in tre parti ha dato una svolta al tradizionale documentario di Diana, cercando invece di collocarla in una sorta di contesto storico. È un'idea audace, immagino. Se l'hai preso come una sorta di versione Rock and Roll Years della vita di Diana, The Rock and Roll Years, altre delizie culturali dell'epoca. Tuttavia, la decisione di dividere la serie in tre decenni ordinati sembrava essere un errore. Tanto per cominciare, questa prima parte, che doveva essere intorno agli anni settanta, conteneva in realtà un sacco di materiale preso dai primi anni ottanta. Inoltre, il suggerimento che Diana fosse una bambina degli anni settanta fosse il motivo per cui ha rimosso obbedire dai suoi voti matrimoniali sembrava un po' forzato. Allo stesso modo, non sono sicuro di cosa avesse a che fare la pubblicazione del 1972 di The Joy of Sex con Diana. O Charles è per questo. Beh, al di là delle acconciature che, parlando di Charles, ha rapidamente assunto la posizione che sembra assumere nella maggior parte dei documentari reali in questi giorni, quella che cade a metà tra la pietà e la disapprovazione.